L'assassino in Bermuda e maglietta scura che va ad uccidere Mario Piccolino, avvocato e blogger antimafia, freddato il 29 maggio scorso nel suo studio a Formia, in provincia di Latina. Nelle immagini delle telecamere di sorveglianza c'è Michele Rossi, l'imprenditore sessantenne incensurato che ha confessato il delitto per un paranoico risentimento provocato da una causa civile, persa dieci anni fa. Rossi prima viene inquadrato dalla telecamera di una farmacia, cammina tranquillo per strada. Cinque minuti dopo, al 17.21, tutto è compiuto, Rossi si è fatto ricevere da piccolino, gli ha sparato in fronte ed è uscito. Nelle immagini della stessa videocamera torna sui suoi passi, senza fretta. La pistola che ha usato è nascosta sotto la maglietta scura.